Musica Perfetto a tutti sono Alte di Pura Fibra Italiana In questo video parleremo di Perché mi sono stufato di giocare a Fortnite Si, mi sono proprio stufato Non ce la faccio più, basta basta Tutta roba inutile, aggiungono sempre robe inutili E allora giocherò a un gioco e voi direte Oh sicuramente a Special Legends Invece no, invece no Giocherò a Zula Prima di iniziare col video comunque vi chiedo di iscrivervi E di attivare la campanella se ancora lo avreste fatto Per non perdere i video e le live di questo canale Lasciate un piace per questo video Vediamo di arrivare sui 5000 like Perché voglio provare proprio questo gioco E voi direte ma io non ho mai sentito Zula Ma che cavolo è? Beh è uno sparatutto in prima persona Che ha i server online, quindi si gioca online E praticamente tutte le mappe di questo gioco Sono ambientate in posti veri Quindi tipo il nord dell'Irak Istanbul o comunque altri posti famosi O a volte anche diciamo mappe interni in una casa Certamente ogni mappa ha i suoi vantaggi I suoi svantaggi Ha tipo le sue zone super particolari Che ognuno deve studiarsi per le proprie strategie E la grafica abbastanza realistica Ti permetterà di immergerti completamente Chiaramente come tutti i giochi sparatutto Ha varie modalità in cui tu vuoi giocare Tipo tutti contro tutti Sabotaggi e un sacco di altre Diciamo modalità Direi di andare a personalizzare un attimo Le mie super armi Vediamo un po' Oh yes Questo è stile Questo è stile assolutamente Yes Anche questa è super fantastica Poi la lametta del barbiere verde Poi questo Questo è da pirata Questo mi sembra meglio Cioè ragazzi Per avere tutti questi accessori eccetera Praticamente bisogna aprire questi mazzi di carte Mazzo leggendario eccetera Che costano un tot di Zula points E in questo modo possiamo avere tipo tutte le armi Che sono super fighissime Super personalizzate In maniera veramente fighissima Direi di comprare un sacco di mazzi leggendari Allora con un sacco di punti Vai vai col mazzo di capodanno Vai 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 Compra vediamo Sì apriamo il mazzo Cosa trovo Oh una rara Ok Fighissimo questo Magari apriamo anche questo To 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 Vai Leggendaria Boh che culo Che cos'è Il portachiavi Compriamo anche il caricatore rapido Yes Compra E per finire il giubbotto antiproiettile Sì 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 Così Così saremo più opi Ok continuiamo a personalizzare Questa è la skin che ho trovato Che però vabbè Non mi dispiace Che è addirittura Lo spectro silenziatore Che vabbè Ehm Pa pa para Yes Quella che ho trovato prima Stra bella Uh Pam pam Param Raga guardate Quanti Comunque quanti mazzi Con un sacco di robe Vai 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 Che apriamo tutto qua Vai che apriamo tutto Un sacco di leggendari Mazzi collezione incubo Oh sì signori Sì signori Qua avrò delle skin da paura Da paura assurde Ora vi faccio vedere io raga Vi faccio vedere io Chi è un vero pro player Raga Questo è il mio cecchino Con una skin super fighissima Ora ve lo faccio vedere io Ma che cavolo Raga in questo gioco Praticamente una squadra Deve disattivare la bomba O attivare la bomba E l'altra deve proteggere Diciamo la bomba Il discorso è questo Purtroppo È un gioco dove Se muori Devi aspettare Fino alla fine del round Quindi Quindi È un gioco molto tattico Bisogna stare molto Molto attenti Dai Ma cosa Ma cosa Sono scarso Come pochi Bisognerebbe giocare Più di squadra Ma a quanto pare La mia squadra Fa schifo E poi tra l'altro Sono Siamo in 4 Contro in 8 Dai Dai Ma che cosa Ma che cosa Ma che cosa Signori Signori Ne ho ucciso uno Incredibile Ma vero Adesso vi faccio vedere Io con sta arma Vi faccio vedere io Guardate che arma bella Guardate che mimmetiche Guardate la desert eagle dorata E il coltello Signori Uh Doppia kill Signori Doppia kill Signori Tripla kill Guardate che qua Sono un mostro Sono un mostro You are alone Duuu Duuu 3 kill E poi così Morto Vabbè adesso vado col cecchino Che così faccio un culo A strisce Molto più forte Di non andare col cecchino Ma Non is Possibile Dai Andiamo a fargli il culo Col col coltello Mi muovo molto più veloce Questo è l'obiettivo Diciamo Ma muori Muori tu Muori tu Dai 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 che gli ho sparato Maledetto biondino Beh però ne ho uccisi due Ma muori Ma muori Andiamo a fargli il culo a tutti Muori Muori Maledetto Triple kill Triple kill Dai Dai Quante Quattro kill ho fatto Quattro kill Signori Double kill Headshot Quattro kill Quattro kill Quattro kill Quattro kill Quattro kill Signori Signori, signori, sono on fire Sono on fire, sono troppo potente Nooo Ma quante kille avevo fatto Ma quante kille avevo fatto Ero diventato un mostro Iscriviti al canale Grazie a tutti.